Volevo lasciare qui su Facebook, sulla pagina intitolata Racconti in tempo di peste, curata dal Teatro Pubblico Ligure e dalla compagnia di Corrado Delia, due sonniti di Trilussa che io considero assolutamente attuali. Uno si intitola La guerra e l'altro La stretta da mano. La guerra. Nel meglio che un soldato andava in guerra, e il cavallo gli disse chiaramente, io non ce vengo, e lo buttò per terra, precipitosamente. No, non ce vengo, disse, e me ribello all'uomo che ti ha messo l'odio in core e te commanna di scannare un fratello in nome del Signore. Io, dice, sono una bestia troppo nobile. Passoci a me, alle infamie che fai tu. Si vuoi la guerra, facci un'automobile. L'ammazzerai di più. La stretta da mano. Quella ti dà la mano a chi che sia. Non è certo un'usanza troppo bella. Eh, te può succedere che è la strigna quella d'un ladro, d'un luffiano, o d'una spia. De più. La mano asciutta o sudarella. Quando ha toccato qualche polcheria, conti il bacillo d'una malattia che t'entra in bocca e va nelle budella. Invece, a salutà romanamente, segua d'ambia un tanto con l'igiene e poi non c'è pericolo di niente, perché la mossa teglia di, in sostanza, semo amiconi, se volemo bene, ma restamo a una tempi da distanza. Grazie. 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 Grazie.